Musica Hanno preso carta e penna stigmatizzando l'operato del sindaco di Gela sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. Una delle vicende che ha indotto i grillini a dire la propria presentando un'interrogazione è quella legata all'arrivo dell'acqua potabile per circa 400 utenze in contrada Manfria grazie alla realizzazione dell'acquedotto da parte della Divina Acquedotti alla quale i residenti della zona balneare si sono rivolti dopo essersi costituiti in consorzio. Invece che brindare a Manfria sulle spalle di quasi 400 cittadini che hanno pagato 1.500 euro di allaccio e che ignari non hanno alcuna certezza di continuare ad avere acqua dicono i grillini il sindaco spiega alla città la posizione della regione del 19 maggio scorso assessorato regionale energia e servizi pubblica utilità e renda note le più recenti disposizioni del prefetto. Acqua pubblica per il Movimento 5 Stelle non significa creare speculazione su questo bene primario e quindi non quella di dare acqua solo a chi può permettersi costi enormemente ricaricati. Bene comune, rincarano i grillini, non vuol dire sventrare 30 km di strade comunali per dare acqua a 400 consorziati. Chi pagherà i ripristini? Chi erediterà questi nuovi debiti fuori bilancio? Perché Manfria deve avere docce e passerelle finanziate da Divina Acquedotti e Consorzio Piano Marina pagate da quelli che i consiglieri del Movimento 5 Stelle ritengono i portatori di interesse con il sindaco che brinda per l'inaugurazione della rete? In un'altra interrogazione, il gruppo consigliare di 5 Stelle interviene sui servizi e sulle fatture emesse dalla società Caltacqua che gestisce il servizio idrico a Gela. Al sindaco e alla giunta si chiede di utilizzare tutte quelle misure attraverso gli uffici specifici e l'assessorato di competenza per eliminare i numerosi problemi. Acqua singhiozzo, elevato consumo elettrico per riuscire a riempire le cisterne, presenza di bolle d'aria nelle tubature non potabilità dell'acqua, informando anche la cittadinanza in modo che chiunque venga a conoscenza in anticipo dei disservizi di erogazione della potabilità o no e specialmente le modalità di fatturazione per far sì che i cittadini presentino in tempi utili eventuali ricorsi sulle fatture gemesse, al fine di evitare che tutto ciò continui a perpetrarsi all'infinito a discapito dei bilanci familiari e le numerose sedi comunali dove esiste un contratto con il gestore idrico. Tra l'altro le richieste formulate da Grillini, primo firmatario Enzo Giudice, sono parte integrante della Carta dei Servizi Ato, CL6 e Caltacqua per la tutela degli stessi cittadini. Chiediamo al sindaco e all'assessore siciliano, continuano i proponenti, se l'amministrazione, dopo l'approvazione all'unanimità nel mese di aprile da parte del Consiglio Comunale della mozione, quali interventi o strumenti ha deciso di mettere in atto per ridurre tutti i disagi che i cittadini giornalmente subiscono. Sopra al luogo del sindaco Domenico Messinese, alla villa Garibaldi del centro storico di Gela, con contestuali accertamenti della Polizia Municipale sui giochi per bambini collocati dal gestore del chiosco al quale i vigili urbani hanno contestato varie irregolarità. I giochi non sarebbero risultati sicuri e inoltre non tutto sarebbe regola per quanto riguarda alcuni impianti elettrici e servizi igienici. A sollecitare l'intervento dei vigili urbani era stato lo stesso primo cittadino. Parco giochi che di fatto è in custodia colui che ha una gestione nella parte della villa. E' un controllo che ho voluto fare personalmente anche perché è stato dato mandato alla GELAS di verificare tutti i parchi gioco della città e di intervenire per poter ripristinare se ci sono qualche piccola carenza e in ogni caso se vi sono delle criticità di provvedere immediatamente o comunque in ogni caso di metterle in sicurezza. E' stata proprio una direttiva ben precisa di provvedere a una manutenzione periodica e soprattutto di avvolersi di ditte specializzate per poter fare gli interventi. Questo riguarda tutti i parchi che sono ancora sotto la gestione diretta del Comune. La GELAS ha compresato di fare tutti i sopralluoghi e a breve interverrà per migliorare i parchi esistenti e a quanto pare dovremmo riuscire anche a migliorare un pochettino la situazione attuale. Questo vuol dire non fare spot ma programmare le cose in modo corretto per garantire quello che è giusto, ovvero sia la tutela dei nostri piccoli. Continua e incessante soprattutto sui social la polemica legata alla installazione degli ombrelli come elementi decorativi lungo il corso principale di Gela. Continua soprattutto all'indomani di un episodio che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi. Uno degli ombrelli staccandosi dal filo è infatti precipitato colpendo al volto una giovane donna che è ricorsa alle cure del pronto soccorso del Vittorio Emanuele. La reazione di indignazione dei passanti è stata immediata. Il racconto del consigliere comunale Giuseppe Ventura che proprio in quel momento stava percorrendo lo stesso tratto del corso in cui si è verificato l'episodio. Ho visto quello che noi temevamo che accadesse e poi è accaduto. Un ombrello è finito addosso ad una ragazza che si è fatta pure male, è andata al pronto soccorso, dall'altro vicino l'occhio. Ma quello che è più grave è che accanto a pochi centimetri c'era un bimbo di pochi anni che ha rischiato che l'ombrello andasse a frire addosso al bimbo. Ma non solo, questo gruppo di persone che tra l'altro non erano di gel, ma erano di fuori, hanno inveito contro la città, tra l'altro hanno pure individuato dei vigili urbani e prendersela contro i vigili urbani. In realtà ho fatto capire, ho cercato di far capire loro che in realtà la città è contro questi ombrelli e che l'unico responsabile di questo scempio è il sindaco e il suo assessore Catania. Io cos'è che dico? Io per carità si dovrebbe parlare di tutto tranne che di ombrellini. Ci sono tantissimi problemi da risolvere e non si può perdere tempo a parlare di ombrelli. Però questa amministrazione comunale ci costringe ancora a parlare di ombrelli perché basterebbe fare un passo indietro e chiedere scusa alla città e togliere questo pericolo perché non si parla più di ombrelli, se sono belli o sono brutti. C'è un pericolo che ingombe sulla città e sui cittadini è il dovere del sindaco togliere un pericolo, altrimenti rischia anche di commettere un reato. Non solo, vorrei anche sottolineare che questo sindaco e questa amministrazione che ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo con gli ombrelli, con i cani randaggi perché sono notizie di quasi tutti i giorni c'è gente che va a finire in ospedale perché i cani randaggi aggrediscono appunto i cittadini e anche con i sensi di marcia. C'è stato un cambiamento, il repentino dei sensi di marcia anche in quel caso tantissimi incidenti stradali ancora una volta a mettere in rischio l'incomunità dei cittadini. Io non ho mai visto un sindaco che invece di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo. Consigliere, ieri quindi tanta paura e soprattutto la paura di altri cittadini, di altri passanti che temono che possa ripetersi. Sì, tra l'altro tutti i passanti che hanno fatto poi comunella attorno appunto a quanto accaduto mi chiedevano proprio quello, cioè mi chiedevano di intervenire sul sindaco per farli eliminare, per farli rimuovere. Tra l'altro più volte sono cadute ombrelli che per fortuna sono finiti addosso alle macchine però cosa stiamo aspettando ancora? Io do al primo cittadino cinque giorni di tempo a partire da oggi per togliere questa ombrella quindi poi farò un esposto per omissione di altri d'ufficio perché non si può ancora aspettare che accada veramente l'irreparabile. Il primo acquazzone estivo a Gela non ha mancato di procurare subito i primi danni che in questa occasione hanno riguardato la discarica Timpazzo. Nonostante le difficoltà le operazioni di conferimento dei rifiuti non sono state interrotte. La pioggia battente ha provocato lo smottamento di una dorsale del costone che si affaccia alla discarica, danneggiati anche gli impianti elettrici. Praticamente ieri nel primo pomeriggio una bomba d'acqua si è riversata proprio nella zona qui di Contrada Timpazzo, quindi sulla discarica ed è stata una pioggia di notevole intensità che come tutte le piogge estive dopo un lungo periodo di siccità ha trovato tra virgolette i terreni impreparati a raccogliere tutta quest'acqua perché molto secchi proprio per la siccità estiva e quindi l'acqua col dilavamento ha creato parecchi danni alle strutture ma anche alle infrastrutture esterne della discarica. Come spesso accade quando vi sono perturbazioni di questo tipo abbiamo problemi con le energie elettriche e quindi abbiamo avuto questi sbalzi di tensione che hanno procurato parecchi problemi agli impianti, abbiamo dovuto staccare tutti a verificare, abbiamo avuto problemi alla pesa e agli impianti elettrici in generale. Per fortuna abbiamo i nostri tecnici che immediatamente sono intervenuti e dal punto di vista elettrico hanno ripristinato l'efficienza e quindi la discarica siamo stati in grado di poterla tenere aperta perché senza pesa avremmo dovuto chiuderla. E poi problemi alle infrastrutture come magari avete visto dalle riprese che avete fatto negli argini per esempio della vasca ACD dove l'acqua ha creato notevolissimi problemi e ora stiamo valutando i danni e verificando come intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi. Novità in arrivo per tutto ciò che riguarda le concessioni e le autorizzazioni edilizie. Da oggi infatti gli uffici comunali Sportello Unico Edilizia e Suop Attività Produttive non potranno più accettare le istanze e le comunicazioni che riguardano interventi edilizi. Il motivo risiede nel fatto che gli uffici stanno predisponendo la nuova modulistica relativa alla legge regionale numero 16 del 10 agosto scorso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana numero 36 il 19 agosto scorso. Si tratta di una norma di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia atteso che con le nuove norme edilizie sono state abrogate sia la concessione che l'autorizzazione edilizia nonché le modalità di comunicazione e regime libero della precedente normativa regionale. A breve arriveranno ulteriori comunicazioni per i cittadini fa sapere Orazio Marino, dirigente dell'area pianificazione e valorizzazione del territorio del comune di Gela. Si avranno presto notizie in ordine alla ripresa delle attività di ricezione delle pratiche e sensi del nuovo provvedimento regionale. La nuova legge regionale infatti non prevede alcun regime transitorio quindi è immediatamente vigente dal momento della sua pubblicazione. Nulla di fatto ieri in Consiglio Comunale a Gela in merito alla vicenda Porto chi si aspettava l'avvio del ripristino funzionale della struttura portuale dovrà pazientare ma la pazienza ha un limite. Al momento attuale infatti non esiste nessuna approvazione del progetto da realizzare con 5,8 milioni di euro dei complessivi 32 milioni relativi alle opere di compensazione del progetto Eni. Attorno al progetto dunque c'è molta confusione. Mancherebbe sia la disponibilità della copertura finanziaria che il piano di caratterizzazione del sito come ha confermato Giampiero Calafato, presidente della protezione civile regionale. Ieri c'è stata l'ennesima riunione al comune con tutti i vari esponenti sia del tavolo tecnico, commissione urbanistica, amministrazione, dove ho notato che si è fatto un bastendietro anziché avanti. C'è qualcuno che rema contro questo progetto. Il dato di fatto è che a Gela il porto è insabbiato e insabbiato rimarrà per non sappiamo quali tempi e quindi una cosa che dovrebbe essere normale, amministrazione, è diventata un iter quasi direi infinito. Non ci sto più capendo niente perché vedo che prima si va avanti e poi si torna indietro. Ma qual è il vero problema? Perché l'iter attualmente è bloccato? Considerato che c'è stata una riunione proficua, se vogliamo, a Palermo, anche alla presenza di esponenti della protezione civile. Allora, anche noi vorremmo capire, e quanto prima cercheremo di capirlo bene, chi sono i veri responsabili di questo blocco attuale. Perché non si capisce effettivamente chi sono i veri responsabili, se è l'amministrazione comunale, se è la regione. Però io posso dire che il 28 giugno, la regione a Palermo, dove c'è stata la nostra presenza, è stato firmato un protocollo d'intesa fra regioni Eni e Comune, è stato tutto verbalizzato, dove si è raggiunto un progetto di definitivo, i fondi, e quindi mancava solo ed esclusivamente la firma da parte del Comune e la PEC della raffineria, quindi mancava pochissimo per poter mandare il tutto in gara di appalto. Quindi a questo punto non capisco perché il Comune non si muova e non vada immediatamente a Palermo a chiedere il nostro diritto, perché è il nostro diritto, avere questo porto fruibile. I consiglieri Maria Pingo, Megafono, Virginia Ferruggia, Movimento 5 Stelle, Salvatore Scerra, Forza Italia, hanno accusato la Giunta di non volere risolvere la questione, porto catturandosi i consensi delle associazioni e dei componenti del contestatissimo gruppo di lavoro. Il piano di caratterizzazione esiste ed è stato fatto dall'ARPA, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, ma deve essere autorizzato dal Ministero. E' stata richiesta la verifica di non assoggettabilità alla VAS. Comunque il progetto deve essere autorizzato dalla Protezione Civile e dal Ministero. Esiste, ha detto Siciliano, un impegno tra Regione, Eni e Comune. Invitiamo tutta la cittadinanza a venire sabato alle 3 del pomeriggio all'Otel Seno per poterci guardare in faccia e capire cosa dobbiamo fare. Porteremo lì tutti i dati, tutti i documenti, tutte le cose valide per tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e cercare di capire chi rema contro questa riuscita di questo nostro porto. Quindi invito, ripeto di nuovo, tutti, se ci vediamo giù alle 3 del pomeriggio di sabato, questo sabato, per poter capire cosa fare per portare avanti il nostro progetto. E' quello di vedere finalmente Gela e avere un porto, un piccolo porto che è quello che a noi serve. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Sono sette gli emendamenti proposti dal Partito Democratico al bilancio comunale di previsione 2016. A sottoscrivere i documenti è il gruppo consigliare al completo con i consiglieri Alessandra Ascia, Vincenzo Cirignotta, Salvatore Gallo, Romina Morselli e Carmelo Orlando. Consigliare il Partito Democratico con i sette emendamenti punta a due fattori fondamentali. Uno, il decoro urbano destinando un milione di euro per il piano colore e un milione e 750 mila euro invece per i più deboli. Sì, il decoro urbano, quindi diamo la possibilità ai proprietari degli immobili di rifare i prospetti e anche contemporaneamente diamo la possibilità a tanti artigiani locali di lavorare. E dopo il sociale, in un contesto di crisi economico riteniamo il rafforzamento delle politiche sociali prioritario, diamo soldi, pensiamo di aiutare e quindi allargare la platea di beneficiari per quanto riguarda gli anziani, i disabili, iniziativa a favore dei soggetti autistici, soldi per le famiglie in difficoltà e poi pensiamo di mandare a lavorare altri 300 padri di famiglia che non hanno lavoro utilizzando lo strumento dell'assegno civico. Questi sono i temi fondamentali che con noi stanno a cuore e l'auspicio è che vengano accorti favoritamente anche dagli altri gruppi politici. Da quale capitolo avete estratto queste somme e per quale motivo? Un settore, quello dei rifiuti, ed è da lì che noi intendiamo prelevare queste somme che ammontano a 2 milioni 750 mila euro, è da lì che intendiamo prenderli perché innanzitutto perché riteniamo ingiusto che si investa e si arricchisce di somme notevoli un settore che viene, quello del servizio di raccolta dei rifiuti, che è stato fortemente contestato rispetto al passato. Tutto noi ci potevamo aspettare, tranne che ritrovarci oggi caricato nel programma 3 di questo bilancio una somma destinata al settore dei rifiuti di circa 4 milioni di euro in più rispetto alla somma individuata nel contratto d'appalto rifiuti originario. Non capisco come faremo, come faranno loro a spiegare alla città che nonostante questa arrogante e massiccia campagna di sensibilizzazione su come procedere alla raccolta differenziata dovrebbe corrispondere a questa campagna informativa un aumento della percentuale di raccolta differenziata e quando aumenta la raccolta di percentuale di differenziata dovrebbe diminuire il costo. La visione è quella di sostenere chi è rimasto indietro, i più deboli e ridare il decoro alla città che è il programma che il Partito Democratico mette in gamba a tutti i livelli e che il Cintà vuole caratterizzare la nostra azione. Ora vediamo se l'amministrazione comunale sarà attenta alle nostre evidenze. Avete più volte anche sottolineato che il contributo di tutti i componenti del Partito Democratico è stato preso in considerazione e che è stato fondamentale. Indubbiamente perché è stato un lavoro di squadra assieme ai consiglieri comunali e dai vostri microfoni vorrei lanciare un appello perché questi sono emensamenti che vanno nel senso del bene comune quindi chiediamo agli altri gruppi di poterli apprezzare e al limite anche di mettere la firma perché non è che vogliamo essere gli ispiratori assoluti. Io penso che sono emensamenti, come diceva il segretario, che vanno nell'indirizzo degli ultimi e nell'indirizzo di cercare di mettere in moto microeconomie nel nostro comprensorio. Era il 17 aprile scorso, c'è dire quattro mesi e otto giorni addietro quando Gela si strinse attorno alla propria squadra di calcio al fine di conquistare la Serie D e conquista fu. Dopo un campionato esaltante e un testa a testa con la rivale sancataldese gli uomini in biancazzurro ottennero la promozione. Finalmente il Gela approdava in un torneo semiprofessionistico dopo quattro esaltanti salti di categoria consecutivi. Ieri a distanza di quattro mesi e otto giorni tutto è finito e a quanto pare definitivamente le nubi dense delle ultime ore hanno prodotto burrasca. Il consiglio di amministrazione del club, presenti il presidente Francesco Tuccio, i consiglieri Lucio Antona e Gidio Alma, ha deciso di mollare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile all'inadeguatezza dello stadio Vincenzo Presti di Contrada Giardinelli, che ha determinato, oltre ai gravi danni sportivi, anche gravissimi danni finanziari a causa del fallimento totale della campagna abbonamenti e delle sponsorizzazioni, in quanto nessuno, si legge in una nota della società calcistica, è in grado di dare risposte certe a quanti chiedono rassicurazioni che il Gela giocherà al Presti le partite casalinghe. Comprensibile e noto a tutti che i tifosi gelesi soffrono maledettamente di attacchi d'ansia. Analizzata dunque la situazione generale e in primo piano quella dello stadio Presti, i cui lavori sul manto erboso non sono ancora cominciati, con le conseguenze sportive ed economiche che si stanno riverberando su questa stagione, hanno avuto un ruolo determinante nella decisione presa all'unanimità di lasciare il calcio. Chiunque volesse prendersi carico e cura del Gela, sostituendo in toto l'attuale proprietà, può farlo attraverso il sindaco, al quale verranno consegnate le chiavi della società. Se malauguratamente non dovesse verificarsi nessun avvicinamento in seno alla società, già a partire dalla prima gara di campionato, prevista per domenica 4 settembre, il Gela non si presenterà fino alla radiazione. I tifosi che hanno già acquistato l'abbonamento saranno rimborsati e tutti i giocatori da ieri sono liberi di trovare un'altra squadra. Chiediamo umilmente scusa a tutti i tifosi giolesi. Chiude la nota del club. Da ieri la città ha perso un patrimonio, la maggiore espressione sportiva. Un finale, è chiaro, che nessuno si aspettava. Ma adesso ci chiediamo cosa accadrà. I giocatori dove andranno? È il tecnico? È il direttore sportivo? I giocatori, credo, mi auguro, si accaceranno presso altre squadre. Anche perché ora non è che sarà particolarmente facile. Non lo so. Le squadre già sono quasi tutte sistemate. Penso che potranno trovare sistemazione altrove. Per quanto riguarda il tecnico, la stessa cosa. Per quanto mi riguarda, io dopo questa vicenda ho chiuso con il calcio. perché lavorare da 16 anni, 17 anni in varie squadre e avere l'occasione della vita e cercare di raccogliere i frutti dopo tante sofferenze in una piazza così importante come Gela e finire in questo modo è una batosta. e quindi per il momento ho deciso che il calcio smetta. Capisco che è una cosa veramente assurda, atroce per tutti, per la città. Veramente, non ho parole. Però non posso fare commenti, non mi va di fare commenti. Prendo solo atto di quello che mi ha detto il Presidente. Ieri sera credo che la maggior parte si è andata via e stamattina saranno andati via tutti. Però, fermo restando che rimangono sempre tesserati del cittadigela fino a quando non ci sono trasferimenti e quando altri restano sempre tesserati in cittadigela. Sindaco, si doveva arrivare a questo punto con la dirigenza del Gela che alla fine decide di non continuare e con uno stadio come sottolinea al Consiglio di Amministrazione proprio del Gela Calcio al momento attuale inadeguato e che non permette alla squadra di giocare. Queste sono valutazioni del tutto unilaterali da parte della dirigenza. Io vorrei ricordare che noi siamo intervenuti in tempi rapidi. C'è un contenzioso lasciato dalla vecchia amministrazione proprio sul campo che abbiamo sanato in tempo record. erano quasi oltre 100 mila euro di debiti che abbiamo usato rapidamente proprio per poter intervenire sul campo. Abbiamo già fatto la gara per poter intervenire quindi la ditta che interverrà sul Manto Erboso si saprà a fine agosto inizio di settembre perché la gara deve essere capitata secondo disegni di norma. Già si sta intervenendo su tutta la struttura per ammodernare secondo le indicazioni date dalla Lega. Sul Manto Erboso attualmente il sindaco non si è intervenuti e il 4 settembre tra pochi giorni comincia il campionato. Intanto ci sono squadre di Serie A che le assicuro che non hanno i campi pronti anche perché noi dobbiamo seguire non gli istinti di pancia di qualcuno ma le regole che ci impongono di usare determinate trasparenze negli atti. questo è fondamentale ma sicuramente il fatto anche di non giocare la prima partita non vuol dire che il campo non sia pronto in tempi brevi di conseguenza è più credo una propria cercare una scusa per volontà già decise da tempo comunque lui come imprenditore può prendere le sue decisioni ma sicuramente il gela la gela del calcio lo vede come una specie d'affronto quindi che a posto di fare un tir e molla che già dura da tempo noi la nostra parte la stiamo facendo se lui non è in grado di fare la sua parte lo dica ben chiaro lasci la squadra e poi vedremo se si potrà andare avanti in modo diverso in maniera molto più pratica da oggi cosa accadrà il club biancazzurro le consegnerà le chiavi e lei si attiverà al fine di cercare altri imprenditori che possano sposare la causa biancazzurra e dunque vedere il gela calcio ai nostri di partenza in Serie D io non vado avanti con proclami quando il presidente Tuccio viene a consegnare le chiavi del gela calcio l'amministrazione saprà quale prendere quali saranno le azioni da intraprendere però giustamente non voglio muovermi su un'indicazione così aleatoria dove un giorno mi scrivo un giorno non mi scrivo un giorno me ne vado un giorno il resto che prenda una decisione almeno sappiamo quali sono le azioni da poter intraprendere perché le assicuro che gela è una città grande dove ci sono molte persone che vogliono collaborare in tutta sincerità quante colpe riscontra l'amministrazione comunale in merito a quello che sta accadendo per quanto riguarda l'amministrazione nessuno per quanto se qualcuno poi come al solito vuole cercare di trovare nell'amministrazione un punto dove poter scaricare delle colpe che noi non abbiamo è un gioco che forse a gela qualcuno si diverte da fare ma molte persone anzi la maggior parte dei gelesi sono persone intelligenti e sanno vedere le cose in modo corretto ha detto pure che porterà la squadra al sindaco io ancora non l'ho visto appena viene e porta la squadra al sindaco io posso prendere determinate decisioni però adesso per me il gelacalcio esiste e c'è come presidente l'ingegnere Tuccio e quale potrebbe essere una decisione del comune se qualcuno dice di fare una determinata cosa la faccia io poi agisco di conseguenza è inutile parlarne prima perché non c'è nulla fare soltanto delle dichiarazioni basate sul nulla allora se lui vuole ha deciso di dare la squadra all'amministrazione venga mi porti le carte facciamo un passaggio ufficiale e poi vediamo quello che dobbiamo fare a Grazie a tutti.